Non si placano le polemiche suscitate dagli incarichi e consulenze per mezzo milione di euro affidati dal governatore Frattura, da amici ed esponenti politici di spicco del Partito Democratico. Una vicenda sulla quale è intervenuto con toni estremamente critici l'ex consigliere regionale Massimo Romano. Al di là del dato dell'importo economico, che già di per sé la dice lunga, fa discutere questo assalto che sembra famelico alla diligenza. Si ha quasi l'impressione che si stia raschiando il fondo del barile per accaparrarsi quanta più roba è possibile. Si tratta di incarichi, consulenze e rinnovi di contratto affidati comunque a volti noti della politica vicinissimi al governatore Frattura, ma non solo. È il solito modo di ricostruire o ricucire degli equilibri magari interni per vicende che hanno a che fare con la gestione della politica attraverso il ricorso a strumenti che invece dovrebbero essere, come peraltro loro stessi dicevano in campagna elettorale, assegnati sulla base delle competenze, del merito, in modo trasparente, non invece nelle conventicole ristrette, magari tenendo all'oscuro di tutto tutti e facendoci le belle sorprese che poi apprendiamo grazie alla meritoria opera di informazione di questi giorni. E tra gli incarichi elagiti dal governatore c'è anche quello affidato a Carmela Lalli che dovrà occuparsi della GAM. Nella delibera si fa chiaro riferimento a competenze specifiche maturate in materia. Non giudico evidentemente le vicende, le professionalità. Quello che si registra però è che sono passati tre anni dall'insediamento dell'aggiunta Frattura e quella è un'industria che è rimasta chiusa. E non c'è, nonostante tanti proclami, a partire dal dicembre del 2013 dove si preannunciavano imminenti rivoluzioni, imprenditori, cavalieri bianchi e poi la socializzazione e poi questi progetti mastodontici sul PSR o non so su quali altri tavoli, in realtà continua ad essere chiusa. È un'azienda che costituiva un volano per un'economia di un intero territorio che oggi non vede la luce di una possibile ripresa. O se la vede non lo sa nessuno perché dal punto di vista degli atti amministrativi o delle riunioni o dei tavoli di concertazione non c'è uno straccio di idea. L'unica cosa certa è che lì si sono persi centinaia di posti di lavoro, ci sono intere fette dell'indotto che sono rimaste senza alcuna misura di protezione sociale e attenzione, la cosa ancora più grave è che a fronte di quella chiusura non si è predisposta nessuna altra modalità di sbocco economico per quel territorio e per quell'indotto nel silenzio generale. Quindi da questo punto di vista è molto discutibile tutta questa gestione di politica economica e richiederebbe una serietà che non stanno dimostrando, anzi al contrario stanno dimostrando proprio una totale incapacità di risolvere i problemi effettivi del territorio, nello specifico parliamo di Boiano e dell'area del Matese, che è un qualcosa di sdicevole.